Bulli e Pupe Arcontes sbarca il Caffè il Ponte di Casteggio. Hai un talento speciale, ti piace stare sul palco e vorresti essere il vincitore di un grande premio finale? Partecipa gratuitamente alla seconda stagione del Talent di JAPTV. Per candidarti come concorrente o assistere come pubblico alla registrazione di una puntata, invia un sms whatsapp al numero 320 22 45 117. Bulli e Pupe Arcontes, questa domenica alle 21 e 30 a Risto Pub Caffè il Ponte di Casteggio. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, ci troviamo presso la sede dell'associazione Chiara perché sabato 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro il femminicidio e la violenza di genere si terrà un evento a Voghera in piazza Meardi, ma siamo qui con Cristina Buffelli per parlarne meglio e raccontare di che cosa si tratta. Buongiorno. Buongiorno, benissimo. Allora 25 novembre giornata mondiale contro il femminicidio della violenza di genere. La nostra mission, la mission di associazione Chiara, nonché centro antiviolenza da quest'anno, è quella proprio di curare, prevenire e aiutare le donne vittime di violenza di genere. 25 novembre in piazza, come tutti gli anni, per coinvolgere la cittadinanza, per smuovere quelle coscienze, per smuovere l'indifferenza. Partenza alle ore 17 dalla panchina rossa, simbolo della lotta contro il femminicidio postata l'anno scorso, proprio in occasione di questa giornata mondiale, e Flash Mob tutto lungo Via Emilia con quattro tappe importanti. Per tutti i partecipanti che vorranno aderire alla nostra iniziativa, verrà consegnata un volantino dove ci saranno le istruzioni dirette per il Flash Mob. Chiediamo tutti di portare un simbolo rosso, che può essere una sciarpa, una borsetta, un cappello ed un libro. E poi lasciamo un punto interrogativo e lasciamo un po' così di curiosità. Lo spiegheremo tutto quando ci troveremo alla panchina rossa, e spero numerosi, fino ad arrivare a Via San Lorenzo per andare poi alla Sala del Millenario, dove ci sarà la presentazione ufficiale del libro che è appena uscito, anzi uscirà proprio il 25 novembre, Il silenzio delle donne. Una contrapposizione, un libro, Il silenzio delle donne. E tra poco parleremo proprio del libro, tra l'altro durante la presentazione di questa opera letteraria interverranno anche la scrittrice Adriana Maria Soldini, Cinzia Zerba, volontaria dell'Associazione Chiara, l'assistente sociale Stefania Scapolan e l'avvocato Ilaria Sottotetti. Le letture invece che verranno svolte durante l'evento sono a cura del gruppo Gatto Matto. E proprio di questo libro vogliamo parlare, Il silenzio delle donne, un libro molto particolare perché non è stato scritto da un'autrice o un'autore in solitaria, è corretto? Sì, buonasera. Il silenzio delle donne è un libro che praticamente raccoglie molti scritti, alcuni dei quali sono scritte dalle volontarie perché raccoglie un po' quelle che sono le sensazioni, le percezioni e i vissuti che noi abbiamo sperimentato, anch'io come volontaria, in questo nostro percorso. Come avete citato prima ci sono anche degli scritti che riguardano un po' le professioniste, per cui abbiamo storie scritte dall'avvocato, abbiamo anzi proprio un'intervista a uno stalker molto diciamo importante a livello nazionale che logicamente non svegliamo perché vogliamo che veramente le persone siano anche un po' stimolate a comprare questo libro che uscirà, come diceva prima Cristina, il 25 di novembre. Ci sono tante storie, alcune poesie, alcuni scritti proprio direttamente dalle donne. È un libro che raccoglie non solo le nostre esperienze ma anche le esperienze di un altro centro che è quello di Vigevano, il centro core, il centro antiviolenza di Vigevano. Noi speriamo veramente tanto nella divulgazione di questo libro proprio perché è il coraggio delle parole, vogliamo rompere veramente il silenzio in questo territorio che purtroppo per nostra malaugurata, cioè veramente ogni giorno accogliamo veramente tante donne. Quindi un incoraggiamento a parlare e speriamo che questo fenomeno abbia a scemare pian pianino. In conclusione, questo fenomeno ovviamente è ahimè d'attualità costantemente, però in questi giorni se ne parla tantissimo per il caso Fausto Brizzi, la televisione ne parla quotidianamente eccetera eccetera. In quale modalità è corretto maggiormente secondo lei denunciare questo caso e quanto è importante che le donne ne parlino piuttosto che tenere tutto dentro? Beh sicuramente è importante denunciarlo quando l'accaduto è nei giorni appena trascorsi, ma la cosa più importante è che le donne ne parlino tra di loro e che riescano a rivolgersi ai centri perché è l'unico mezzo, è l'unico modo che possiamo avere per essere aiutati ad uscire, perché non possiamo solo essere, ci si ferma solo all'ascolto, poi c'è un lavoro di accompagnamento in un percorso veramente di uscita, perché le conseguenze comunque sono a tutto tondo, per cui una donna ne soffre sia a livello psicologico, a livello economico, negli affetti, nelle relazioni, quindi tutto poi viene influenzato da questa esperienza negativa. In sovraimpressione ho trovato ovviamente tutti i riferimenti dell'associazione. Grazie mille. Grazie a voi.